Settima e ottava lettura del libro Garbatella 100, il racconto di un secolo e eravamo arrivati a quando il 18 febbraio nascerà il quartiere e proveranno a chiamarlo Borgata Giardino, Concordia. Il nome Garbatella però è ormai radicato nella cultura popolare che continuerà a essere usato dagli abitanti per individuare la zona, tanto che Paolo Orlando, il presidente dell'ente per lo sviluppo marittimo e industriale, dicevo, di Roma nel biglietto d'invito alla posa della prima pietra, scriverà che la cerimonia avverrà in via della Garbatella fuori porta a San Paolo. Nei primi anni 30, in pieno fascismo, ci sarà un nuovo tentativo di chiamare il quartiere con un nome diverso, la scelta cadrà su Remuria, nome tra l'altro già citato in un lavoro di William Gell nel 1834, anche stavolta però la cosa non avrà seguito, il quartiere continuerà a essere chiamato col bel nome musicale che tutti conosciamo, Garbatella. Nel corso della ricerca abbiamo cercato, scrivono gli autori a lungo, una traccia e un'immagine, una testimonianza illustrata dell'Osteria della Garbatella. Oltre ai riferimenti catastali e ai manoscritti documentali abbiamo trovato un quadro di un pittore danese del pittore danese Christopher Willem Ekemsberg che ci riporta alla dimensione agreste dell'epoca. Il dipinto che ritrae l'edificio nelle vicinanze di San Paolo fuori porta risale al 1814. Ai tempi Roma era meta molto frequentata di artisti danesi che grazie al finanziamento della reggia accadema e delle belle arti ci vissero, studiarono e lavoravano per lunghi periodi immortalando il patrimonio artistico della città. Nel suo diario personale Ekemsberg annotò di aver pranzato fuori porta con la sua famiglia il 6 e 20 novembre 1814 e molto probabilmente colpito dall'armonia dell'omonimo edificio o da ricordo di una piacevole giornata trascorsa con i suoi cari il pittore decise di dedicargli un quadro e praticamente è mutata rispetto ad oggi la roccia di San Paolo nel dipinto la strada lastrigata dove camminano l'uomo e la donna e l'attuale via Ostiense. Io sinceramente questo quadro già l'ho visto pubblicato molti anni fa in un giornale, mi ricordo di due pagine con carta lucida, se lo trovo ve lo farò vedere. Ci sentiamo alla nona lettura.